Ciao a tutte, ecco un nuovo What a Itina Day. Inizio subito la mia giornata bevendo un bicchiere di acqua con limone. In questa giornata avevo bisogno di parecchie energie, quindi ho deciso di fare la colazione salata. Ho preparato dei pomodori tagliati a fette e del pane integrale tostato con un filo d'olio d'oliva e un ovo in camicia. A lavoro come spuntino ho deciso di portare con me delle carote tagliate a metà e un cucchiaio di burro d'arachidi. Il burro d'arachidi l'ho fatto in casa utilizzando solamente arachidi. Per pranzo ho deciso di fare una piadina integrale, quindi ho messo della farina integrale, circa 100 g, poi un cucchiaio di olio d'oliva, del sale rosa, una puntina di bicarbonato e dell'aceto per attivare il bicarbonato. Poi ho aggiunto piano piano dell'acqua fino a quando non ho raggiunto la consistenza giusta. Ho formato una pallina e poi l'ho schiacciata piano piano con il mantarello, l'ho lavorata fino a formare un cerchio. Non deve essere né troppo grossa né troppo fine, quindi circa 2 mm va benissimo. L'ho cotta in padella, 1-2 minuti per lato e poi sopra ho aggiunto della bresaola, dei cetrioli e infine qualche pomodoro fatto a fette. E il pranzo è terminato. A merenda mangio quasi sempre della frutta e in questo caso avevo dell'uva. A cena invece ho preparato del pane integrale tostato, poi ho aggiunto del salmone affumicato che ho scotato leggermente in padella e dei semi di sesamo tostati. Poi a parte ho aggiunto della lattuga, un filo d'olio extravergine d'oliva, del sale rosa dell'Himalaya, delle nocci, infine qualche foglia di menta fresca. E anche la cena è terminata. Questo video è giunto al termine, spero che vi sia piaciuto, ricordate di visitare il mio sito www.maralai.com e al prossimo video, ciao!